ciao a tutti ragazzi bentornati in questo nuovo video oggi sono su gta 5 per la passaggio un 4 c'è un po di casino guardate prendono fuoco le persone perché ho attivato un trucco fermati prendi fuoco e bruciare sennò non va bene bruciare tutto cricolica si e no 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 c'è un po' di casino qua sto per morire eh infatti addio cerchiamo qualche trucco qua prima di tutto mi prendo una macchina innanzitutto ok metto la prima persona che può farlo solo su gta per la play 4 è troppo bello ecco a smarta ecco a bo mi vedi signorina mi vedi signorina 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 non sai guidare signorina vai chi ti ha dato la patente all'equitazione stiamo scherzando oh non mi vedi garante eh ora devo aprire devo scaricare il caricatorio non faccio fermo 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 scendi dalla macchina scendi dalla macchina oh scappa scappa ho detto scappa c'è proprio le persone qua gta fanno quello che vogliono non ha capito niente questo è rimasto incastrato la macchina a posto via cambiamo macchina cambiamo macchina tanto abbiamo tempo da perdere noi vai andiamo andiamo un po' dove sta qua sta sbandando tutto dove sta all'aeroporto vediamo qua c'è la polizia allora aeroporto siamo un po' distanti siamo un po' distanti nel frattempo nel frattempo la vespina via via devo prendermi la moto via anzi questa non mi piace via vespina via bom devo prendermi questa si sta scappando eh eh questo non ha capito niente che sta scappando io me lo metto sotto eh dai dai corri 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 bello che avevamo fatto gli occhi corri oh ecco la moto quella è rimasto dietro e io mi so pesa la moto a posto così si fa e mo' si ragiona vai boom 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 a cento stiamo andando boom non ci siamo fatti niente abbiamo perso solo un po' di sangue dal nostro corpo ok torniamo a farci un giro adesso morirò guardate guardate se mi ammazza hai visto? è bello che mi hanno ammazzato cioè mi hanno ammazzato la polizia e mi ammazzano sti benetti cittadini ok siamo tornati siamo appena ammazzato oi oi come cammini strano tutto storto cammina visto tutti strani sono lo santo quella grida e quello scappa senza vedermi uno e due sti incivili no ma la signora non ha capito quali la signora a terra devi stare devi sederti siediti siediti oh pure questo sta andando oh si è il dit si è il dit Sta arrivando la polizia Aspettiamo Eccoli Africano Ehi bello Blocche da sole pure Ehi Fino all'ultimo Prendiamo una macchina Allora devo andare all'aeroporto Faccio un selfie No Non è il caso forza No Allora andiamo all'aeroporto al secondo Questo Ah è vicino dai Oh no Stiamo andando già male Non tornare indietro Qua nessuno sa guidare lo Santos Io sto sbanta E mi sono ammazzato Lo sapevo io E Non è successo niente E ritorniamo Nessuno sa guidare Nessuno sa guidare Compreso me Giustamente Allora Allora Paxi Per chiedi una cosa Ma cosa risponde Proprio un civile E si disparano Si Ma dai la macchina sfondata Dimmi dai cosa chiede Oh Siamo a due chilometri A quindici dalla Dall'aeroporto Vediamo se facciamo uno strap Magari riusciamo ad arrivare Ehi Ehi Spostati Ehi Ma tu guarda Sti pali in mezzo alla strada Ma passa un poliziotto Salve Salve signora Spostati 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 Oh Oh Range Rover Tu con la macchina Il macchinone Guardami Un dito medio mi fai Un dito medio mi fai Ho di carico di mazzata Dove stai andando Vabbè Vabbè Lasciamo stare Con lo sacramento dopo Quando sarà la prossima volta Questo si ferma in mezzo alla strada Oh Allontani Quei che sparo Allora Allora siamo arrivati All'aeroporto E Emo ci facciamo un giranello Se è possibile Che c'è tutta sta polizia qua dietro Va bene che sono da solo Bisogna un po' di compagnia però Voglio dire Ok Adesso abbiamo lo slow motion che durerà mezz'ora Ma è minimo Bello Tocca il muro Bellissimo Ok Incappottamento Ok Giustamente Andiamo col muso E ci ritroviamo in mezzo in vera La macchina Questa benzina con la spiegata Non capisco Ok 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 Allora cerchiamo un aereo Qua è vuoto Qua dovrebbe esserci uno Sono state partendo Vediamo se ributtiamo una bomba Ma non li fa niente Questi aereo sono sempre indistruttibili Insomma è ma Allora Cerchiamo un aereo Ah là c'è un jet Ok Torniamo indietro Qua stiamo giocando Nel vero senso della parola Perchè per trovare un jet Stiamo in aeroporto E non tiriamo un jet Stiamo messi bene Quindi arriviamo pure sopra Ok Abbiamo fatto tempo Facciamo volute il turno Questa quindi Sacramentiamo Allora Ok 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 Promo Mi dovete esaurire o tu fai un giro? Ai ai Questo è di lusso Scegliamo tutto qua Non so cosa accende perchè non c'è manco un pulsante sopra Sta stonato Ok Andiamo Signor e signori mi vedi questo volo easy jet Quello che sia Tempo di percorrenza di un'ora e venti Cinque gradi all'incirca Ma Dovremmo morire A cinque gradi Eh grazie per aver scelto la nostra compagnia di volo Stiamo Leggiando sull'oceano pacifico Avrebbe esserci degli squali Proviamo a scendere Niente a parte scherzi ragazzi E' questa la prima volta che gioco su gta Spero che ne farò altri video Sulla play 4 perchè si vedono benissimo E niente Guardate quanti eri ci sono La grafica non è niente a che vedere con quella della PSG 13 perchè è proprio È bestiale Guardate solo qua Come si vede Oddio per certi aspetti magari Però si vede bene Dai Eh dovrebbe esserci anche di rinnava limaio Alta la grafica migliore Ovvero Squali Gatto Pesci gatto Credo eh Se volete adesso Ma mi butto nel mare Proviamo a vedere No forse non ci sono Vabbè io mi butto lo stesso Vai No non ero Ah non c'abbiamo la paracaduta apposta Mi sa che adesso moriremo di nuovo Nel caso commentate scrivetevi come al solito mettete mi piace insomma Solita cosa E vabbè se ci vuole tanto per morire stiamo messi bene Ok Niente ragazzi dai ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti 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 Ciao a tutti